Noi collaboriamo anche insieme con la Confederazione Italiana Canoe in Kayaks e per l'autunno di 2011 abbiamo in programmazione un movement experiment con 10 ballerine, le coreografie farò io, 40 kayaks sul fiume e anche il water fire che illuminerà tutto l'evento. Vogliamo di coinvolgere anche i FIC nella programmazione durante il giorno con guide, per esempio se Sirf e FIC creano tours sul Tevere in maniera in cui il pubblico può essere istruito sulla natura di vedere la storia e di partecipare sul fiume. Abbiamo pensato anche di provare di aprire una comunicazione fra Ostia Antica e nostra Piazza Tevere e di usare tutti e due gli spazi con il trasporto sempre avanti sulle barchette che adesso funzionano sul fiume. Queste sono immagini di Chance Encounter sul Tiber con le sedie e erano organizzate 100 sedie sul banchino del Tevere le musiciste lì e il pubblico ha creato il loro spazio. Continui. E poi erano invitati al Maxi a Roma. Il nostro sogno nell'altunno di 2011 è di passare da 100 sedie a 1000 sedie e abbiamo vari progetti per questo, una coreografia usando 100 sedie, 1000 sedie e anche la combinazione anche con Waterfire. Qui è il nostro performance di Chance Encounters al Biennale. Adesso io vorrei, abbiamo anche il CD di Waterfire di Barnaby Evans che vorrei farvi vedere. Un'altra cosa che Tevere Eterno provi di fare è sempre una programmazione che è site specific. Ogni opera o installazione è studiata specificamente per quest'area sul Tevere. Allora, spostando un'opera che ha origine lì, quando passa da Roma al Maxi e dal Maxi al Biennale, per esempio, la forma è quella, ma è l'ambiente che cambia il pezzo e diventa un pezzo nuovo, un'opera nuovo, ogni volta che è ripetuto. Guardando a queste immagini di Waterfire, per un pubblico europeo-italiano sofisticato come voi, qualche di queste immagini possono sembrare un po' semplici, ma l'impatto emotivo sulle persone che sono state a questo evento è descritto come una cosa veramente magica. Il potere di rientrodurre le persone al... sì, forse per abbassare un po' la luce adesso aiuta, c'è anche il suono, non so... ma... di rinvitare il pubblico a discendere e a avere l'esperienza in un grande area pubblico dell'acqua e fuoco ha un grande impatto emotivo. Barney mi parla molto dell'aspetto Jungian in tutto questo e lui anche dice che una cosa che hanno... delle partecipanti hanno descritto, particolarmente i genitori con i bambini autistici, è che è uno dei pochi posti pubblici dove possono portare i bambini con questi problemi, che diventano calmi e c'è qualcosa che tocca loro veramente profondamente, anche i cani rispondono in questo luogo. Immagina i bambini e tutte le varie persone. È un processo dove i membri del pubblico accendono il fuoco e c'è una programmazione intorno che potrebbe essere coreografia e performance musicale, eccetera. Poi lui crea varie coreografie coinvolgendo sempre un vasto pubblico. Qui lui ha semplicemente dato il compito di provare di tenere le canoe in relazione l'uno con l'altro come pesci e ne ha funzionato benissimo. Le persone si sono divertite, ma si vede che c'è un'atmosfera proprio di reverence, che cambia le gente. Questo evento ha fatto rinato Providence, Rhode Island. E questo è il tipo di un modello per noi, insieme con quello di Chance Encounters, di Robert Hammond, che è un modo di creare place, di creare un senso e un'identità, come ha parlato West State, che ci serve in tutte le grandi città. Allora, bello come il Tevere, se le persone non hanno un motivo di guardare sopra le murali e vedere l'acqua, se qualcosa non invita loro giù, se non c'è un motivo per il comune di pulire le banchine in maniera in cui il pubblico può scendere, i nostri progetti non vanno avanti o vanno avanti con fatica. Se iniziando su un livello di grassroots, come si dice in italiano, in inglese, scusatemi, inizia proprio sul terreno, persona per persona. Barnaby Evans riesce a finanziare questo praticamente con piccoli contributi del pubblico che vengono all'evento. Robert Hammond ha riuscito a creare The High Line in New York con lo stesso approccio, piccoli contributi. E così tutte e due hanno trasformato due importanti spazi urbani. Noi stiamo lavorando, come Tevere Eterno Association, lavorando dal stesso modello di lavorare con il pubblico, di creare un senso, di usare l'arte contemporanea e di usare il Tevere come metaforo per tutti i fiumi del mondo. Possiamo fare questo e possiamo veramente cambiare il mondo usando arte, architettura, design e nostra immaginazione. Ma ci serve il fiume, il flusso dell'acqua, ci serve il silenzio dei fiumi, i suoni del fiume, di riportarci alla nostra salute naturale. È un approccio completamente fuori dal contesto forse di questo, ma credo molto e credo anche che tutti di noi, i nostri vari progetti, stiamo andando nella stessa direzione e che è un momento molto importante adesso anche quando noi proviamo di trovare i sponsors, notiamo che l'arte contemporanea attira molto, ma adesso è l'ambiente che attira, perché c'è un grande aumento della consapevolezza che abbiamo poco tempo a salvare il mondo e che possiamo fare, ma anche dobbiamo scegliere il tipo di mondo in quale vogliamo vivere e possiamo fare questo usando arte, architettura, creatività. Grazie, mi dispiace che non avevo mia notte.